Locus Desperatus è un libro che tratta fondamentalmente degli oggetti, delle cose, delle case, di tutto ciò cui noi ci affidiamo, che scegliamo come compagno di strada, compagno di lezione, tutto ciò cui noi regaliamo un senso e anche ciò che ci restituisce un senso, contribuendo alla definizione della nostra personalità. Come risulta dallo sviluppo della vicenda in questione, queste cose possono aver bisogno del nostro aiuto, della nostra protezione, ma possono rivelarsi anche le nostre più potenti risorse, possono esserci alleate, secondo il pensiero magico, per cui determinati oggetti possono avere una funzione salvifica, come amuleti, come fetici. Lo spunto iniziale della narrazione è un'ingiunzione di sfratto che colpisce il narratore, senza un motivo, senza perché. Il narratore è costretto a lasciare in pochi giorni la sua casa, le sue amate cose, si ribella a questo sopruso, cerca tra le proprie cose appunto quelle che possono aiutarlo a imbastire, a organizzare una difesa, ne nasce un conflitto con forze ultraterrene, con forze che obbediscono alla legge del fantastico, quindi non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Il locus desperatus è alla fine il teatro di battaglia, il campo di battaglia che rimane. L'ocus desperatus è un'espressione che viene dalla filologia classica, è quella porzione di testo che il filologo non può ricostruire, non può sanare, non può emendare, e quindi lascia, così com'è o meglio, la esplicita attraverso uno spazio bianco, uno spazio vuoto, segnato all'inizio e alla fine da una croce, quella che sembrerebbe una croce, si chiama infatti crux desperationis, e che invece per motivi che verranno illustrati nel corso del libro, croce non era ma un pugnale, un pugnale capovolto.